Ciao a tutti, il set Lego che facciamo vedere oggi non fa parte del nostro progetto giapponese con cui costruiamo varie cose di Lego che rappresentano il Giappone, ma l'abbiamo preso per Alice è una delle tante scatole di pezzi sfusi, questa ha un nome, la 10696 comunque è una scatola di pezzi un po' assortiti, vari diciamo è una delle più base di tutti, non è specializzata in qualcosa ora la piamo, così poi Alice ci fa vedere cosa contiene questi sono pezzi gialli e arancioni e dentro questo pezzo grande qua è il cava pezzi che serve per togliere i pezzi già montati sugli altri pezzi ageva diciamo l'operazione poi abbiamo un sacchetto di pezzi neri e grigi e qua abbiamo soprattutto delle rotelline quindi questo può servire per costruire delle macchinine, insomma cose con le ruote poi abbiamo un altro sacchetto di pezzi rossi, bordeaux e bianchi e qui dentro non c'è niente di particolare, sono tanti mattoncini abbastanza piccoli e poi ecco abbiamo un bellissimo set blu e azzurro qui ci sono un po' di pezzi allungati ma anche qui non c'è niente di particolare poi un altro sacchettino bianco, rosa e viola ecco qui ci sono degli occhi, quindi con questo non ci sono tanti, qua c'è delle ciglia è possibile costruire probabilmente degli omini e poi abbiamo l'ultimo alla base, quella che c'è Alice in mano, la base verde e poi ci sono altri pezzi verdi, qui c'è diverse basi, quindi questo può servire per fare un prato poi abbiamo il libretto di istruzioni che spiega come fare alcune cose tipo il trenino, la macchinina rossa, il coccodrillo che si possono fare con questo set poi online c'è il link per trovare altre costruzioni non ho detto quanti pezzi ci sono, mi sembra che siano circa 484 poi ci sono sia più piccole sia più grandi noi per Alice abbiamo preso questa e ora vedremo cosa costruirà comunque se dovessi costruire qualcosa di giapponese ve lo mostreremo per il momento, vabbè questo video comunque si conclude qui a presto per altri video Lego tra cui quelli su Super Mario e altri